Il Leonora Pedrone e Max Biaggi più uniti e sorridenti che mai in occasione del compleanno della figlia Inessa Angelica. La Sugar 39enne e il pilota, 50enne, sono apparsi affiatati e sereni sui social condividendo scatti bellissimi in famiglia con i figli. Inessa ha compiuto 12 anni e ha spento le candrine insieme ai genitori al fratello Leon Alexander, più piccolo di un anno. Il tempo ti rapisce, ma amo pensarti sempre piccola, ha scritto Papa Max su Instagram, mentre mamma Eleonora ha commentato, conosco solo un modo per misurare il tempo con o senza di te.